è fondamentale quando noi gestiamo i pazienti affetti da colettura celosa e da malattia di crohn pensare anche al loro stato nutrizionale dobbiamo identificare quali sono i pazienti a rischio di malnutrizione e per questo ci sono una serie di parametri che sono sia biomorali quindi sia sull'esame del sangue sia antropometrici peso impedenziometria indice di massa corporea e poi dobbiamo considerare invece nei pazienti che hanno già manifestato un stato di malnutrizione di mettere in atto tutta una serie di misure volte a correggere questo stato di malnutrizione lo stato di malnutrizione infatti è associato a una serie di outcome negativi sia in termini di riattivazione della malattia sia in termini di ricorso all'intervento chirurgico sia in termini di numero di complicanze postchirurgiche sia soprattutto in termini di peggioramento complessivo della qualità di vita da parte dei pazienti che noi seguiamo quindi dobbiamo valutare tutti questi fattori in quanto anche lo stato nutrizionale rappresenta uno dei momenti fondamentali per una gestione corretta e completa di questi pazienti grazie a tutti grazie a tutti